per hollywood ok ok e decidi di lasciare nicolas perché sai che lo showbiz di hollywood ti porterà in situazioni insomma che non ti possono permettere di essere fidanzata con qualcuno nella fattispecie allora sei pronta quindi nicolas facciamo così tu falle solo una domanda perché altrimenti non arriviamo da nessuna parte cioè tipo le chiedi samantha perché devi partire rimani come e poi tu ti fai un bel monologo spiegando perché devi per poi di rispondo e poi ok allora allora ripartiamo no no quello lo dici tu ripartiamo con la base ripartiamo sulla base grazie ora vai nicolas ma amore ma perché devi partire sentiamo sai per quanto sono brava nella mia date di attrice mi hanno chiamato hollywood quindi io pulire i cessi quindi io devo andare lì nel mio posto ideale dove c'è la mia anima mi spinge e devo presto perché meno male e allora vero anch'io però io entrò lì io diventerò un'attrice e te lei diventerà un'attrice quindi te saluto è andata meglio probabilmente riprovandosi altre quattro cinque volte ci riusciremo anche però siccome purtroppo alle sette dobbiamo chiudere non ce la faccio però diciamo che è andata meglio maricuccia come è andata è andata meglio chiediamo alla direttrice un voto da 1 a 10 12 6 6 8 il nostro cameraman da 1 a 10 3 benissimo non è insufficiente è peggio numero perfetto 3 il numero perfetto chiediamo a tua sorella un voto a tua sorella 5 tu invece un voto 11 11 perché non te vuole sentire no perché ne sono due a quello di prima e quello di adesso beh quindi un 6 e un 5 benissimo allora è tra poco la movita del weekend state con noi